Ci sono 20 lavoratori tra operatori sanitari e sociosanitari e personale addetto che rischiano il posto nella vicenda della vendita della casa di riposo Stella del Mare di Francavilla. La cessione degli immobili sul lungomare al confine con Pescara, che ospitano anche un asilo, resta avvolta da un alone di mistero. I proprietari della struttura, l'istituto religioso Sorelle della Misericordia, ai rappresentanti della Fialz che hanno chiesto spiegazioni, avrebbero negato qualsiasi cessione e, oggi, spiegano sempre dalla Fialz, nonostante gli anziani stiano cominciando a lasciare la struttura, ai lavoratori non è stato comunicato nulla. C'è solo una lettera indirizzata dall'istituto religioso alla cooperativa di Grosseto che gestisce la residenza per anziani e l'asilo e per conoscenza agli acquirenti degli immobili una struttura alberghiera di Silvi che evidenzia la disdetta del contratto di locazione e la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita in data 18 novembre 2016, registrato a Pescara il 7 dicembre dello scorso anno. L'atto di compravendita, si legge sempre nel documento, è fissato per il 30 settembre data in cui i locali dovranno essere liberi. In questo lasso di tempo la Fialz e i lavoratori hanno programmato iniziative di protesta a partire dal giorno di Pasqua in cui saranno in piazza San Pietro per esporre uno striscione sotto gli occhi di Papa Francesco. Noi stiamo facendo iniziative, anzitutto siamo andati al comune di Francaville dove abbiamo riscontrato un pochissimo interesse, il sindaco non si è fatto trovare l'assessore, pochissimo interesse. Noi stiamo organizzando per il giorno di Pasqua andare a piazza San Pietro con gli districioni dove chiederemo l'impegno anche di Papa Francesco, il suo interessamento a questa cosa assurda che non è perfettamente in linea a quello che lui sta predicando un po' da diversi mesi.